ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva sono clio e se sei nuovo al podcast qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa cioè positiva nel buon umore se possibile e se mi hai già ascoltato prima sono felice di ritrovarti oggi ti invito a esplorare nuovi punti di vista sul nostro percorso di consapevolezza genitoriale in un'intervista con silvia zanotti che è mamma e la creatrice la fondatrice di un convegno mamma percorso felice che la cui prima edizione si terrà tra pochi giorni quindi se ci state ascoltando se ci stai ascoltando in diretta con l'uscita dell'episodio tra pochi giorni ti daremo tutti i link necessari e se invece ci stai ascoltando in una data futura per in un modo insomma che tu possa trovare la data dei futuri convegni che silvia organizzerà benvenuta silvia grazie di essere qui con noi grazie mille clio grazie del tuo invito e un saluto a chi ci sta ascoltando e vedi silvia sta già perdendo la voce nella fatica dell'organizzazione del convegno quindi un grande applauso di incoraggiamento per questa grande grande avventura che stai che stai costruendo grazie infatti vi avrei anticipato vi avrei chiesto scusa per il tono di voce ma purtroppo questa è quella che mi è rimasta no no anzi grazie di esserti insomma prestata lo stesso essere qua con noi e il motivo per cui mi stava molto a cuore farti intervenire e dare un po di insight di sguardo nel tuo nella tua esperienza è un po il tuo viaggio di mamma e di donna che ti ha portato a che ti ha spinto insomma a voler condividere le scoperte che tu hai fatto lungo questo percorso e a creare questo convegno che tu che tu stai lanciando che è comunque una grande una grande impresa per seminare un po lasciare degli spunti di riflessione ad altri genitori ad altre mamme che ci stanno che ci stanno ascoltando che magari vivono anche loro esperienze simili sensazioni simili io posso dire di aver fatto un percorso abbastanza simile al tuo in termini di così fasi fasi buie che poi portano a scoprire nuovi nuovi orizzonti e forse è comunque un'esperienza comune quella di dover rimettere di fare un po di ordine nelle priorità nei valori nel nella visione della nostra che abbiamo no del nostro progetto di vita nel momento in cui diventiamo genitori correggimi se sbaglio Silvia non so se anche per te è stato così quindi sono assolutamente in linea con quello che hai detto e sì io te lo sappiamo bene il nostro percorso è un pochino simile nelle sue origini perché io adesso sono la mamma in cammino mi piace definirmi di due preadolescenti miei bambini adesso ragazzi non posso dire più bambini hanno dieci dodici anni e io mi sono iniziata a fare delle domande quando loro erano piccolini ma non fin dall'inizio quindi ho iniziato il mio percorso di genitore con il massimo dell'entusiasmo e ci tengo a sottolinearlo con tutto l'amore del mondo quindi penso che chi ci ascolterà sarà comunato con noi da questo grande amore verso i bambini e ragazzi questa secondo me è la base di partenza però ho replicato uno stile genitoriale un esempio che avevo vissuto io in prima persona come figlia prima e mi sono trovata poi a un certo punto con i miei bambini erano nella scuola dell'infanzia all'asilo ad avere qualche difficoltà e ho iniziato a farmi delle domande su come mai mi sono messa un po in discussione come mamma e in quel momento mi mettevo in discussione proprio come ti dico come mamma il mettermi in discussione come donna è arrivato dopo e quindi ho iniziato a leggere a informarmi a capire se c'era modalità differenti ma facevo tutto con un'ottica di capire quello che non andava nella relazione ma se vuoi con una lente puntata sui miei bambini quando ho capito invece iniziando appunto un percorso di crescita genitoriale insieme ad altri genitori che hanno camminato stanno camminando insieme a me ho capito rapidissimamente che il focus non era da puntare sui bambini ma su me stessa e quindi lì è iniziato il vero percorso di crescita mio personale come donna sono andati in parallelo i due percorsi ma hanno delle peculiarità che li contraddistinguono uno per un verso uno per l'altro perché effettivamente noi siamo mamme ma prima di tutto siamo donne prendere contatto con il mio ruolo di donna è stato un passaggio non facile perché ci sono stati dei momenti di difficoltà quando mi sono contattata internamente quando ho capito che dovevo guardare ai miei bisogni prima ancora se vuoi dei bisogni dei miei bambini e non per un senso egoistico del discorso anzi lungi da me ma perché io sostengo che una mamma serena riesce a guidare nella vita figli più sereni e lo vedo lo sto vedendo tantissimo adesso con il convegno che sta diventando a tutti gli effetti il mio lavoro sta permettendomi di tirare fuori quello che c'è dentro di me di creativo di voglia di fare di voglia di intraprendere per me stessa e si riflette tantissimo nello sguardo diverso che i miei figli hanno verso di me io vedo un'ammirazione nei loro occhi che non mi nutre come bisognosa di un rinforzo dall'esterno ma mi dà proprio la sensazione che loro sono il mio specchio loro riflettono il modo in cui io mi vedo io mi vedo più realizzata più soddisfatta e loro mi guardano con quell'occhio con l'occhio di bambini di ragazzi che hanno davanti a sé una donna in prima persona che si mette in gioco che si mette in discussione perché comunque eh l'organizzare eh questo convegno per me così come è stato per te il tuo primo summit è un mettersi assolutamente a nudo in gioco davanti al mondo ed è un atto di grande coraggio secondo me che che noi facciamo e che lo fa ogni mamma che che prende una decisione di cambiamento no eh per me questo è stato eh davvero il passo importante che ha cambiato e che sta cambiando la relazione che che ho con i miei figli e con mio marito oserei inglobare anche questo aspetto quello del rapporto di coppia che bello e eh ed è assolutamente d'accordo sul fatto che è bello mi ricordo che eh questo riflettere il tuo cambiamento sulle persone intorno a te no la prima volta che l'ho vissuto è stato durante un una formazione di leadership al femminile in cui sono proprio messo in gruppo in in uno spazio nella stanza c'eravamo come punti sparsi e e l'esercizio era che una sola persona doveva muoversi però che le altre dovevano dovevamo stare attenti a mantenere sempre la stessa distanza tra di noi tra tutte le altre persone coinvolte e quindi era ovvio che nel momento in cui anche solo una persona si spostava tutti dovevamo spostarci per mantenere quella distanza ed è un esercizio semplice però che rappresenta che ti fa sentire no col corpo con con la fisicità con con tutto te stesso questo elemento del non è possibile che tu cambi quindi che tu ti muovi nel tuo ambiente e che questo non abbia nessun effetto sulle persone che sono che sono nel tuo ambiente che sono vicino a te nel tuo ecosistema ecco ed è molto bello perché perché riflette almeno questo è un po il mio il mio sentire ma sono sicura che che lo condividerai questo passaggio dal cercare sempre di cambiare gli altri quando le cose non vanno bene perché ci viene un po istintivo perché cerchiamo di convincere perché con i nostri bambini quante volte lo facciamo a invece passare a ok no cosa posso fare io per cambiare io perché nel momento in cui cambio io comunque in qualche modo influenzo il risultato no il mio outcome sono completamente d'accordo e posso aggiungerti anche questa cosa io come ti dicevo all'inizio effettivamente cercavo di cambiare loro e quando mi sono resa conto che non era il percorso che avrebbe portato benessere né per me né per loro è scattato un pesante senso di colpa devo dire la verità e mi sento accomunata con tante altre mamme che me l'hanno riferito nel momento in cui ti rendi conto che desideri cambiare direzione quello che hai fatto fino a quel momento ti fa sentire inadeguata perché dici se io avessi fatto diversamente fin dall'inizio cosa sarebbe cambiato cosa sarebbe stato diverso mi sento di dire a me stessa ma anche a chi ci sta ascoltando che è davvero il momento di perdonarci per quello che abbiamo fatto se non è stato in linea con quello che adesso con la nostra visione attuale perché ognuna di noi ha fatto veramente lo dicevo all'inizio il meglio che poteva con l'amore maggiore possibile nei confronti dei nostri figli ecco forse quello che mancava e di sicuro mancava a me era quella gran dose di amore verso me stessa perché aggiungendo quel quella parte aumentava e aumentata ancora di più la parte di amore che potevo dare ai bambini perché aveva uno sguardo diverso e lo sguardo diverso di chi arriva alla sera stanco devastato perché posso sperimentare posso dirlo testimoniarlo che in queste sere siamo stremati tutti perché ovviamente la fatica di uno si ripercuote anche sul resto della famiglia però quando c'è l'unione di intenti quando c'è il sostegno diventa meno pesante affrontare situazioni anche complicate perché né io né te possiamo dire di essere arrivate all'ottimo all'equilibrio perché come giustamente dicevi in quell'esercizio che hai fatto bellissimo di nel corso di leadership al femminile è meraviglioso e io lo sono sono una sostenitrice di questa idea del fatto che l'equilibrio è un divenire cioè non puoi dire di essere arrivata all'ottimo nel ad esempio nell'equilibrio tra famiglia lavoro tempo per te non nessuna di noi neanche il guru dei guru può dire di aver trovato un equilibrio da tenere lì e fotografare e fine sono veramente delle istantanee e poi il secondo dopo già devi modificare il tuo equilibrio io l'ho sperimentato facendo in una sessione di danza libera facendo degli spostamenti su un piede solo cioè se tu stai su un piede solo e provi a mantenere l'equilibrio ti rendi conto che non riesci a stare ferma fissa immobile ma il tuo spostarti e poi giocare su questo muovere altre parti del corpo le braccia l'altra gamba fa in modo che tu debba ritarare questo equilibrio e poi all'inizio difficile cadi cioè mettevo il piede giù ogni tre per due ma poi diventa davvero sfidante e appagante il fatto che ti rendi conto che puoi fare delle evoluzioni e trovare sempre un nuovo equilibrio sperimentandolo fisicamente ti fa capire come internamente anche lo puoi provare assolutamente no no bello è una cosa che io faccio tramite yoga ma poco poco importa la disciplina il risultato è di riprodurre fisicamente una sensazione uno stato che poi diventa anche a volte motivo e ti volevo chiedere due cose adesso inizio dalla prima nel percorso che hai descritto si evince una un cambiamento nella tua nella tua sfera lavorativa laddove hai citato il fatto di essere adesso più realizzata di fare un qualcosa che che comunque parla di te in maniera più profonda che ti sta che sta come dire ti sta permettendo di attivare delle parti più complete di te più profonde e di quanto questo si rifletta nello sguardo che i tuoi figli poi possono avere di te e immagino quindi anche nelle deduzioni che poi loro faranno di che cos'è qual è il ruolo di una persona sul lavoro che trovo molto bello molto ricco ehm quale questo mi mi porta a chiederti quindi evidentemente in precedenza c'è stata una vita lavorativa in cui eh la Silvia di allora eh non è non si è sentita altrettanto coinvolta altrettanto attivata internamente e eh quanto questo ha toccato e quindi influenzato il tuo modo di essere donna e mamma domandone ma è bellissimo per me perché mi permette di aprire un capitolo molto lungo della mia vita lavorativa eh perché ho lavorato tanti anni in una grande azienda e sono fermamente eh convinta nel dire che è stata una tappa fondamentale del mio passaggio di crescita ho imparato tantissimo e non se tornassi indietro rifarei tutti i passi che ho fatto perché è stata una palestra professionale ma anche di vita importante mi ha permesso di aprirmi eh a tante conoscenze lavorative personali di persone ehm sono molto grata per quello che ho vissuto eh in sedici anni quindi una bella fetta di vita ma che non rinnevo affatto perché è stata la cosa giusta in quel momento quindi questo posso assolutamente affermarlo e con la consapevolezza di di dire che andava bene così cioè è un po' quello che ci dicevamo prima non posso dirti disconosco quello che ho fatto e mi ripento di non è così sono grata eh a quello che è stato ma poi è arrivato il momento in cui sentivo il bisogno di cambiare ho dato il meglio di me perché mi contraddistingue questo il fatto di impegnarmi e di entrare nelle situazioni con tutta me stessa per cui nei in questi dici anni ho dato veramente l'anima per per il lavoro che stavo facendo e con totale abnegazione devo dire la verità e mi ha dato soddisfazioni quindi benissimo quello che c'è stato ma è arrivato un momento in cui ho dovuto fare una scelta e non è stata facile è stata una scelta che mi ha aperto a nuove possibilità che mi ha messo in condizioni di vivere poi una fase delicata della mia vita personale come donna probabilmente quella scelta è stata propedeutica al permettermi di vivere appunto il momento difficile che è stato dopo in pienezza quindi anche quello cioè non mi sento assolutamente di dire che ci sono state delle cose nella vita anche faticose che siano state vissute come un peso perché il messaggio che mi piace passare è che anche nella difficoltà c'è sempre modo di trovare un lato positivo un appiglio che ci permette poi di fare il salto di qualità per me è stato così quel quei due anni mi hanno permesso di pausa di curare me stessa dedicarmi alla mia famiglia e poi di capire cosa avrei voluto fare tra virgolette da grande perché poi da lì spontaneamente è nata il desiderio di condividere il mio percorso con tante altre mamme e di creare il convegno mi ha permesso di conoscere te per esempio altri professionisti perché siamo in venticinque nel convegno ci sono venticinque conferenze in cui ogni professionista si è reso disponibile ha messo a condiviso le sue conoscenze le sue esperienze e anche dei pezzi di vita perché è stato anche così nel nella conferenza e nella chiacchierata con te in cui abbiamo condiviso dei momenti della tua vita personale come mamma e come donna e questo secondo me è un grande valore aggiunto perché fa capire fa entrare nelle nostre vite le persone che ci stanno ascoltando e non è un'intrusione è davvero un modo di condividere dei passaggi fondamentali perché sono consapevole del fatto che e ce lo siamo dette io e te più volte che l'obiettivo è arrivare a condividere raggiungere tante mamme e fare in modo che ciascuna trovi la sua strada che è quella giusta che non sarà la mia che non sarà la tua che sarà la loro personale però magari prendendo spunto da quello che si sente può essere utile per mettere giù i propri sassolini assolutamente sì sì no bellissimo nel nell'illustrare questa questa dualità per me che da un lato la sofferenza il momento buio la difficoltà non è indice di qualche cosa che va male di qualcosa che non va è al contrario l'indice che di qualcosa che che sta cambiando di un'evoluzione no può essere un a parte situazioni intendo dire dove come dire che non che non hanno possibilità di evoluzione di cambiamento insomma lutti situazioni gravi dove chiaramente non c'è non c'è per forza un'evoluzione positiva di per sé ma ma quelle fasi in cui ci perdiamo un po e che però poi ci permettono di ritrovarci no quindi è quella quel momento di buio col momento di fatica col momento di sì di buio di nebbia che però poi che sul momento ci sembra difficile insormontabile e a volte ci sembra anche appunto ci porta un senso di colpo un senso di inadeguatezza no dovrai avere già le risposte dovrai sapere già gli altri ci riescono perché io no abbiamo tutte queste voci nella testa e invece intanto il primo messaggio che trovo super utile positivo è no non è detto che devi per forza avere le risposte e questi momenti di di tunnel diciamo buio sono proprio deutici poi a trovare delle risposte che ti propulsano veramente là dove vuoi andare dove vuoi costruire ed è lì che trovo bella la immagine della condivisione non perché come dici giustamente tu il mio percorso deve essere il tuo ma perché nel fondo le emozioni e i bisogni che viviamo sono gli stessi sono condivisibili questo sapere sentire che non sono l'unico ad attraversare queste fasi ad assentire queste emozioni ad avere questi pensieri mi fa sentire che non sono da solo mi fa sentire che posso essere accompagnato mi fa sentire che sono parte di un qualche cosa e non che sono sbagliato no e contemporaneamente nell'unicità della delle risorse che ognuno di noi poi sceglierà di attivare per trovare quella che è la soluzione che è una cosa che a me sta molto a cuore mettere in evidenza quando si parla di genitorialità perché chiaramente più comodo più facile cercare una soluzione che vada bene per tutti la formula il metodo la strategia ma nei fatti non c'è non esiste cioè sì ci sono le strategie che magari ti aiutano una volta ti aiutano una seconda volta che hanno funzionato con uno ma la relazione umana per definizione no vita è è mutamento è cambiamento è unicità perché stiamo parlando di esseri viventi e di una relazione unica tra due esseri viventi unici quindi per definizione stessa non può esserci un'unica formula che va bene per tutti con lo stampino no ed è questa coesistenza di questi due elementi che trovo sia meravigliosa nella tua testimonianza ecco mi tazzo e prima di salutarti silvia volevo solo volevo chiederti come ultima domanda qual è stato se te ne ricordi no quali due momenti due momenti proprio di esempio nella relazione con i tuoi bambini prima e dopo no cioè nel momento di difficoltà un episodio di cui ti ricordi come caspita un momento catalizzatore in cui ti sei magari resa conto lì devo far qualcosa non è possibile e un esempio magari oggi in dopo aver fatto tutto questo percorso che ancora ovviamente non è che non si arriva mai no però dopo aver attraversato questa prima fase del tuo percorso in cui invece adesso ti dici ok meno male meno male che l'ho fatto guarda che che relazione che che riesco adesso ad avere anche questa è una super domanda e ovviamente dipende anche dalla relazione con con i singoli bambini perché io ne ho due e con ciascuno di loro ci sono peculiarità però posso dire che è cambiato molto il mio approccio ad esempio nella gestione della rabbia nel capire mentre prima era fuoco con fuoco cioè a rabbia rispondo con rabbia perché poi ce lo ce lo siamo detti alla fine i bambini sono un grande specchio e quando scattava la rabbia ad un no per esempio ad un non si può fare o sarà per domani lo scatto di rabbia generava grande rabbia e frustrazione dentro di me nell'incapacità mi dicevo di non saperla gestire quindi questo era un esempio del prima un altro può essere sempre del prima il bisogno di tempo in più cioè il bisogno di avere di essere meno frenetici di seguire meno i ritmi imposti ok adesso si va ok il tempo per andare a scuola è ad esempio nel caso di all'epoca scuola materna è questo io ti lascio ti saluto e devo andare a lavorare questi erano momenti che mi mettevano in difficoltà perché anche nel secondo caso in cui l'emozione non era un'emozione prorompente ma era un'emozione se vuoi soffocata no del bisogno di stare insieme del pianto del voler stare con la mamma una difficoltà di questa natura facendo tutto il percorso adesso mi rendo conto di essere molto molto più paziente il tema della rabbia è un tema che per me è cruciale perché comunque tocca tanti elementi dentro di me va a scatenare cose del passato quindi insomma ho aperto un po il mio vaso di pandora in questi anni sono andata a ricontattare situazioni persone del mio vissuto quindi questo è un passaggio che ho dovuto necessariamente fare però mi rendo conto che adesso nel momento in cui c'è la rabbia di uno dei miei figli da parte mia a volte ancora c'è la reazione però negli altri casi cambio gli occhiali cioè mi fermo un secondo aspetto a esplodere e mi chiedo ok cosa c'è dietro questa cosa è tutto il giorno che non ci vediamo e mi sta chiedendo l'attenzione che in questo momento non sono riuscita a darti ok è una cosa che per te è un bisogno molto forte io non lo condivido a volte esempio la tecnologia non riesco a capire perché così prorompente così forte per te questo bisogno però cerco di mettermi nei tuoi panni quindi il provare a mettermi nei panni dell'altro laddove è questa è una cosa che ho capito tanto ultimamente non è un mettermi nei tuoi panni di bambino ma di mettermi nei tuoi panni di persona che sta vivendo una difficoltà quindi cosa a me succede in un momento in cui parallelamente potrei vivere la stessa situazione la stessa emozione cioè la difficoltà a salutarmi a staccarmi da staccarsi da me come può essere in parallelo visto nel mio vissuto di donna e di mamma è un po come hai difficoltà nei compiti ma sia una banalità a fare quell'addizione cioè se mi metto da adulto dal piedistallo dell'adulto a guardare il bambino è una banalità volte no quello che che devono vivere loro ma non è quello il mettersi nei panni è se io ho una situazione in cui non mi sento a mio agio in cui sto imparando uno strumento nuovo ad esempio di tecnologia qual è quel sentimento di sensazione che mi sento dentro di oddio non sono capace io non ho gli strumenti per capire e risolvere questa situazione ecco quello per me è mettersi nei panni e riesco a farlo molto di più adesso riesco ad avere ad indossare di più quella che mia figlia dice la collana della pazienza no è bellissima questa cosa ci siamo creati degli strumenti magici a vicenda perché siamo ancora nell'età in cui lo possiamo fare ovviamente poi tutto è trattato in funzione dell'età no un bambino con un bambino può usare tanto la fantasia poi coinvolgerlo in questo con un adolescente no devi usare altri mezzi però nonostante quello puoi trovare il modo per agganciarti a loro per arrivare a comunicare al loro cuore e quindi per esempio con mia figlia usiamo gli occhiali magici l'auricolare magico che non ti fa sentire quello che ti fa soffrire che ti arriva dagli altri la collana della pazienza me l'ha fatta adesso ce l'ho anche fisica mentre prima era solo indossata adesso una collana fantastica collana di lana che indosso e rimette nel ok mi fermo un secondo e indossare questi strumenti magici per noi mamme è fondamentale perché ci permette è quello che una volta si diceva conto fino a dieci ma non è il conto fino a dieci perché reprimo dentro di me quella rabbia la lavoro quella rabbia cioè faccio in modo che passi via perché altrimenti ci troviamo tutti noi per primi genitori a reprimere le nostre emozioni belle o tra virgolette negative e i nostri figli cosa fanno lo stesso cioè lo stessa cosa fino a che non esplode con il modello della pentola a pressione esatto certo se si no bellissimi questi esempi che hai dato mi piacciono moltissimo è vero perché noi adulti a volta abbiamo questo sguardo un po sprezzante cinico no su queste cose ma sono realtà i bambini hanno questa grande ci danno questo grande regalo di permetterci di riappropriarci con questa parte un po più giocosa un po più misteriosa no del della magia che però ha un effetto catartico grande no di simbolizzazione anche di che ci permette a volte davvero di sentire le cose non soltanto di di razionalizzarle ma di ma di viverle di rappresentarle diversamente e te lo dice una che è iper razionale iper quindi dare spazio alla mia parte più giocosa anche quello è stato un passaggio è importante permettermi di usare questi strumenti magici e di pensare di crearli no o far parlare i peluche o le bambole sono cose che la silvia di qualche anno fa un attimo cioè manteniamo le distanze da queste cose e invece fanno la differenza ma lo vedo anche sui compagni dei miei figli no cioè come li attrae questa cosa il rappresentare l'utilizzo della rappresentazione per i bambini è fondamentale non solo quando sono piccolini ti dico la verità forse poi perché io mi è mancata nei primi anni farlo no molto era più un rapporto genitore figlio sia amorevole però con quel distacco no un po e invece se tutti ci butti a capofitto in questa relazione delle soddisfazioni pazzesche e dei ritorni da parte dei bambini dei ragazzi grandissime anche ti dico per gli adolescenti perché a furia di stare in questo mondo di ascoltare per esempio questo è il caso di chi ha figli di età diverse no quindi spesso il problema è che magari il grande ti dice sì ma queste cose sono da piccoli però si agganciano e anche quando leggi una storia a me piace tantissimo portare questa cosa della lettura insieme quando leggi una storia la fai vivere la interpreti ti assicuro che anche il destinatario che non è il principale si aggancia viene lì ascolta dalla porta da lontano perché comunque i bambini e i ragazzi sono coinvolti se tu sei dentro alla relazione loro riesce a portarteli dentro a questo grande contenitore che è poi la famiglia grazie che bello abbiamo disegnato proprio per immagine questo percorso passando da buio a luce con tutte le sfumature di colore quindi ti ringrazio davvero di cuore perché trovo prezioso poter condividere ancora una volta usiamo questa parola no poter tessere dei legami ovunque siano le persone che ci ascoltano far sentire con il cuore che che è possibile che è possibile al di là di della persona chi è del momento del suo percorso della fase del suo percorso in cui ognuno ognuno di di noi insomma ognuno di voi si trova è possibile partire esattamente lì da dove siete esattamente con gli strumenti che avete a disposizione per 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 iniziare questo questo percorso di scoperta di scoperta di voi in primis e quindi grazie a questo di scoperta del dei vostri figli realmente no al di là di di quello che le convenzioni sociali ci dicono del dei doveri del dovrebbe si dovrebbe fare così si dovrebbe fare cosa no invece un linguaggio del cuore un linguaggio in cui mostriamo che non è certamente tutto rose e fiori non è tutto facile non è tutto luccicante brillantinoso col glitter ci sono tanti momenti di grande fatica di grandi rimesse in discussione di dubbi di dolore anche di di bisogno di perdono di bisogno di accettazione di noi e e del nostro passato però che ci apre verso le le porte del possibile quindi che dire se siete ancora in tempo per iscrivervi al convegno metto il link a disposizione per chi vuole per assaporare anche voi questo percorso che silvia ha disegnato per noi e se ci ascoltate invece dopo respirate le energia positiva che arriverà senz'altro fino a voi ovunque voi siate grazie silvia per essere stata qui e per la tua vulnerabilità e per aver creato questo convegno grazie clio per l'opportunità che mi hai dato di condividerlo e sono davvero tanto felice di averlo fatto con te avendo toccato questi temi per me tanto cari grazie a tutti a presto